Gli oggetti devono avere un valore, una funzione e un utilizzo più o meno frequente. Sono Irina e ti do il benvenuto sul canale Spazio Grigio. Per me gli oggetti si dividono in quelli che hanno uno scopo, per esempio lo schiaccia aglio. Ha una funzione, io lo uso almeno una volta a settimana e risolve un mio problema. E poi quelli che portano gioia, che ci fanno sentire bene, come alcuni vestiti anche se non per forza necessari, o alcune decorazioni o piante. Abbiamo visto 50 cose che io non compro più. Ora vediamo, gli oggetti che possiedo, solo uno di quel tipo o per un certo scopo, sono oggetti che o prima ne avevo molteplici o normalmente le persone ne hanno molteplici. E non parlerò di oggetti che, tranne qualche caso particolare, è ovvio avere uno come una lavatrice. E piccolo disclaimer, non giudico nessuno che abbia più di uno degli oggetti che sto per menzionare. Finché utilizzi quell'oggetto o semplicemente ti fa stare bene averlo, fai bene a tenerlo. Altrimenti potresti considerare di lasciarlo andare. E fatemi sapere sotto nei commenti quali di questi oggetti anche voi ne possedete solo uno, oppure se con questo video vi ho ispirato a liberarvene di qualcuno. Detto ciò, partiamo con la lista. Ho una sola collana in oro e piccoli diamanti. Avevo ricevuto dei soldi in regalo e ho deciso di investirli in qualcosa di qualità e duraturo. Mi piace, è elegante e non la tolgo mai, quindi per me è molto comodo. E un paio di orecchini, divisi uno giù qui nel secondo buco dei tre e uno su. Poi ho un anello regalato dal mio ragazzo che metto quando esco. Anche se è molto semplice non riesco a portarlo in casa. E poi stavo per dire che ho un orologio perché uso sempre questo, ma in realtà ho anche quest'altro che non uso da quando non lavoro più in ufficio, ma mi piace, non è di certo da buttare. Poi ho solo un paio di forbici e funziona. Ho una sola padella, dimensione media e come per le forbici funziona. Non ho mai sentito il bisogno di averne di più e io cucino tutti i giorni. Ho una borsa per tipo, una più grande per ogni giorno, una per la spesa in cotone organico e molto resistente, una per occasioni o comunque per quando non ho bisogno di molte cose e una più capiente per viaggiare. Ho un portafoglio, uno di qualità. Uso lo stesso portafoglio dal 2015, non scherzo. E sembra nuovo, mi piace ancora ed essendo semplice non va fuori moda. Ho speso 70 euro, me lo ricordo ancora perché è tanto, però considerando quanto tempo l'ho usato e quanto lo userò ancora ne è valsa la pena. Trucco. Sapete che normalmente non mi trucco, sono passata da una make up routine da dieci passaggi all'usare giusto un paio di cose. Ho un correttore e una mattita per le sopracciglia, che non è una mattita, ma non so esattamente come si chiama. Spazzolino per sopracciglia? Ok, non so veramente, fatemelo sapere sotto per favore. E sono le cose che uso quasi sempre. Poi ho una mascara che uso poco o niente, che mi è stato regalato, è vecchio, ha quasi due anni, quindi probabilmente dovrei buttare. E una palette o come si chiama, anche questa da quasi due anni e come vedete è come nuova e forse dovrei buttare. Per quello non voglio comprare trucchi perché so che non li utilizzerò veramente e mi ritroverò a doverli buttare ancora come nuovi. Anche se comunque a volte c'è quell'occasione in cui vorrei prepararmi di più oppure per i video e quindi trovo utile avere qualcosina a casa, magari una piccola palette come vi ho fatto vedere che contenga varie cose. Quindi mi informerò e forse acquisterò qualcosina il più naturale possibile e in quel caso vi farò sapere. E per non allontanarci troppo dal settore, un olio idratante per viso, contorno occhi, labbra. Finché si usa qualcosa di naturale non c'è bisogno di avere vari prodotti separati per zona e puoi usare un olio letteralmente dalla testa ai piedi. Al momento come avete visto uso quello di mandorle dai provenzali, però vi dirò sinceramente non ne sono molto soddisfatta. Mi sono trovata meglio con quello che ho preso da Amazon o nel negozio leggero. Oppure uso l'olio di jojoba o il burro di karité, ma non entro troppo nel discorso skin care per il quale ho già fatto un video separato. Ho una salvietta struccante che metto un paio di volte al mese in lavatrice con gli asciugamani, una spugnetta konjac per pulire il viso, un sapone mani, un sapone per corpo che uso sia io sia il mio ragazzo e volevo dire uno shampoo ma no perché al momento ho uno solido e anche uno liquido che uso solo io che è un antigiallo quindi ha la funzione diversa da quello normale. A volte succede di avere due oggetti per la stessa funzione però generalmente ne abbiamo uno per tipo e ci troviamo bene, non c'è confusione. Ho un reggiseno senza spalline e uno con spalline. Ma entrambi uso solo per occasioni perché il 99 per cento dei giorni, come in questo momento, uso i reggiseni sportivi in cotone che adoro. Sono da Calvin Klein, hanno circa quattro anni. Questo è in ottimo stato mentre l'altro non è imbottito e sta cadendo a pezzi e non ve lo faccio nemmeno vedere. Ho un solo giubbotto invernale che mostro nel tour del mio armadio che vi lascio sotto nella descrizione. Prima avevo uno corto, uno lungo, uno più pesante, più leggero, più elegante, più sportivo. Ho investito in un buon giubbotto invernale otto anni fa e sì ho speso tanti soldi però è come nuovo e sono sicura che userò per almeno altri otto. Sempre in tema abbigliamento ho un solo cardigan che adoro e sta benissimo quasi sempre dato che normalmente mi vesto monocolore e questo dà un tocco così, non so come definirlo. Ho un solo paio di tacchi. Questo l'ho già detto nel video 50 cose che non compro più. Ho solo questo paio che non uso quasi mai e quindi è più che sufficiente. E giusto per completare il quadro prima ne avevo una decina di paia usati due tre volte ciascuno. Il senso non ce n'è. Ho un paio di scarpe per fare sport. Non mi piacciono più ma non sono per bellezza. Svolgono una funzione quindi va bene così. Poi ho un altro paio da fuori diciamo tranne le converse che sono d'obbligo. Non penso siano le migliori scarpe da avere ma ce le ho da anni e sono quelle che hanno resistito di più mentre facevo fuori le altre. Voglio investire però in un buon paio di scarpe comode che rispettano il piede che non siano troppo strette davanti. Ho un tritatutto frullatore. Adoro questo tipo di set perché nel bicchiere faccio la maionese fatta in casa e di frullati di frutta. Nel tritatutto invece faccio tutto il resto. Preparo il hummus, tritto l'avena, i legumi per fare i burger. Non sento il bisogno di avere uno strumento apposito per tutto. Non dico però che un giorno non investirò in un buon frullatore. Non lo so ma per ora va bene così. Ho un aspirapolvere. Non ho una scopa elettrica, un rumba eccetera. Ad un certo punto avevo preso la scopa elettrica senza filo però l'ho restituita dopo due giorni perché mi sono resa conto che deve avere comunque anche un aspirapolvere oltre a quella e ho preferito non averne due e prendere solo l'aspirapolvere. Una macchina che condividiamo con il mio ragazzo e prego letteralmente di non aver mai bisogno di una seconda macchina vedendo la manutenzione, il tempo, i costi che ci sono dietro al possedere una macchina. Mi piacerebbe avere sempre solo una ma buona, capiente. Ora abbiamo una Volvo che adoriamo. Ho una cintura e va bene. Ho un elastico e spero vivamente di non perderlo. Ho un ombrello. Anche questo ho preso cinque anni fa in Giappone. Bianco, un po' trasparente. Adoro. Pagato circa tre euro e ancora perfetto. Un computer. Io lavoro da casa al computer e ho solo questo MacBook Air preso ormai cinque anni fa e ancora perfetto. Niente computer fisso, iPad o altro. È leggero, è facile da portare in giro, niente mouse, casse e dato che non ho la tv e anche la mia sorsa di intrattenimento, quindi potrei dire di avere uno schermo se non consideriamo il telefono. Una custodia per il telefono. La custodia deve proteggere, è quello che deve fare la sua funzione, quindi deve essere di qualità. Ancora meglio se è bello, ma non è per bellezza e non c'è bisogno di averne molteplici. Io pensavo che con questa originale da Apple sarei stata a posto. In realtà dopo un anno si è rotta, quindi vedrò di prendere un'altra, stavolta meno costosa e sperando che sia più di qualità. Ho un paio di cuffie che non uso spessissimo, ma adoro il design di colori. Ho un paio di occhiali che uso. Dico uso perché ho anche questo paio che ho messo in borsa senza custodia e si sono rovinati tantissimo, non posso più portarli e sono due anni che devo andare a cambiare la lente perché mi piacciono. E mi piace averne due paia, soprattutto diversi, uno più elegante, uno più casual, ma non più di così perché trovo che alla fine si portano sempre i soliti uno o due e si tende a perderli o a non prendersene veramente cura. Questi ce li ho dal 2014. Ho un gatto, non c'entra nulla con il minimalismo e mi piacerebbe adottare un altro, però ho deciso che non lo farò finché abito in un appartamento. Magari un giorno quando avrò la casa con il giardino mi piacerebbe prenderne un altro. Supportami con un mi piace se il video ti è piaciuto e ti è stato utile e iscriviti al canale per non perderti i prossimi video su crescita personale, minimalismo e uno stile di vita sano. Ci vediamo al prossimo video e fino ad allora vi auguro di liberarvi dal superfluo. Peace!